Tagliando legna è stato colpito da un ramo alla testa e al torace. L'uomo di 58 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Trasportato in codice giallo presso l'ospedale degli infermi di Ponderano dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto nei boschi di Candelo. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato colpito da un ramo per cause ancora da accertare mentre era intento a tagliare legna. Nell'impatto avrebbe riportato due diversi traumi. Pare non abbia perso conoscenza. Le sue condizioni al momento non destano particolare preoccupazione. L'allarma è stato dato nel pomeriggio di ieri e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme alle forze dell'ordine.